ci siamo fermati un minutino a fare due videtti e due fotine veloci adesso ripartiamo e andiamo alla volta di Passo Vezzena e speriamo di non trovare neve sul Vezzena effettivamente non ci ho neanche pensato di guardare se c'era neve in alto ciao ragazzi e benvenuti sul mio nuovo video intanto vi avviso che ho deciso di dividere tutto il giro quindi dal costo fino alla Trento Bondone in quattro puntate e non più tre perché mi sono reso conto che sono veramente molto molto lunghe oltretutto nel video di oggi vedrete che mi è successo anzi mi stava per succedere un evento spiacevole perché ho rischiato di perdere una delle mie action cam montate sulla moto a causa di un supporto difettoso quindi direi ciancio alle bande e iniziamo a vedere il video siamo arrivati a Canova Canove, Canova e adesso andiamo verso il Passo Vezzena intanto la temperatura è già scesa a 2 gradi e devo dire che fa particolarmente freddo ho passato parecchio tempo dalla mia infanzia qui ad Asiago mi conosco abbastanza bene il posto andiamo a camminare lungo questa strada poi qua in fondo a sinistra c'era un locale da ballo dove abbiamo fatto anche un paio di capodanni di feste di sinerzo comunque a 2 gradi fa freddo 2 gradi fa freddo i guanti aiutano ma le punta, le strutture delle dita sono veramente gelate eccolo qua, i due mori sono veramente gelate e nonostante anche le salita nonostante anche le maniglie sì, le maniglie nonostante anche le manopole riscaldate fa veramente freddo e i guanti da Sony così non bastano ma insomma cerchiamo di farceli bastare nonostante appunto le manopole riscaldate al massimo potenza la massima potenza i guanti il calore passa attraverso i guanti e sicuramente aiutano però le estremità delle dita sono veramente fredde dita delle mani e anche dita dei piedi abbastanza nonostante anche gli stivali potrei mettere dei calzini più grossi ma poi gli stivali starebbero stretti quindi non lo so il busto invece è relativo non ho mai avuto particolarmente problemi al busto di temperatura sicuramente la termica che ho messo della Decathlon è una termica per attività intensità media e quindi è in sudorazione è molto sforata molto traforata quindi è probabile che passi comunque dell'aria o che comunque la temperatura non sia più male ne ho un'altra nella valigia posteriore può essere che dopo se la temperatura scende ancora tanto ve la metta perché effettivamente fa molto freddo anche se è controproducente spogliarsi all'aperto qui perché ti raffreddi e non si contano le strade sono sempre molto belle osteria la tagliata mamma mia quando io vedo per terra le strisce di fango però non ho paura terrorizzo mi terrorizzo così quando vedo la polvere la polvere cosa sono dei larici dei pini cosa sono mamma mia immagino le gomme che volano ragazzi che botta di fortuna che ho appena avuto pazzesco praticamente poi quando mi fermo ve lo faccio vedere meglio io il supporto della pg tech montato sul manubrio con attaccata la insta 360 con il modulo 360 praticamente si è spaccato a forza delle vibrazioni e dell'aria presumo si è crepato mamma mia e cioè mi sono accorto per fortuna che la telecana la ballava tantissimo e sono riuscito a tenerla e a prenderla al volo si è staccata e al volo l'ho presa sono riuscito in corsa era anche in marcia quindi non riuscivo a fare tutto con le mani avevo la telecamera in mano a mano sinistra e non riuscivo a fare nulla sono riuscito ad aprire con la telecamera in mano la borsa dal serbatoio e fraccarcela dentro mamma che fortuna mamma mia che fortuna sfacciata che ho avuto che dopo il giro dello stellio dove ho perso una delle mie gopro a causa di un supporto della fite che ci è staccato a ventosa però ho cambiato i supporti ho comprato tutti i supporti fissi madonna ma si è proprio spezzato completamente il supporto io non so come sia potuto succedere sinceramente la mano destra intanto si è informicolata in un modo importante io non so come sia potuto succedere ma è pazzesco sono allucinato questo è sicuramente un reso amazon immediato tempo zero perché secondo me mi auguro forse un difetto di fabbrica ne ho un altro di questo tipo di supporto ma adesso non mi fido più alla forza ho montato così sul manubrio il manubrio ha troppa vibrazione ma è possibile che abbia così tanta vibrazione però evidentemente si tra la vibrazione e l'aria intanto a tutte le 1100 metri sempre per 3 gradi 2 gradi comunque non me la ricordavo la strada così comunque la strada così non me la ricordavo forse ho sbagliato strada no è giusta la strada è giusta la strada è giusta ed è bellissima guardate che cavolo di strada è bisogna stare attentissimi all'asfalto intanto le mani le mani si gelano e diventano dure la destra anch'ilosa 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 bisogna dicevo stare molto molto attenti perché a questa temperatura 2 gradi 1 grado 0 gradi meno 1 si possono formare le fastidiosissime lastre di ghiaccio che in auto tutto sommato se vai piano non hai problemi perché hai 4 ruote andando piano piano ti rendi conto che in curva non possono non essere neanche particolarmente un problema ma in moto allora un attimo in moto basta veramente che metti male le ruote e sei per terra quindi come vedete come si può vedere insomma e quindi sto andando veramente molto molto piano guardo attentamente all'asfalto cercando di vedere in controluce se si possono essere delle lastre e ogni tanto sbasso il fantomatico piedino per saggiare l'asfalto la sua scivolosità vedete che qua ho 2 gradi guardate la brinetta ai lati che bella adesso vai piano adesso vai veramente piano perché la strada è bagnata ed è anche scivolosa e c'è la brina e certo un grado signori e ne abbiamo ancora un bel po' da fare per arrivare in alto al passo Vezzena dove spero che sia aperto almeno e mi berrò un caffè e mi scalderò 10 minuti le manine perché se no non sopravvivo oggi anche perché in teoria puoi dopo ascendere la strada da Vezzena verso Trento è fredda uguale forse un po' meno ma è comunque molto molto fredda il problema è che è tantissimo in ombra come il passo Vezzena e quindi le zone in ombra sono molto più fredde che spettacolo 1200 metri di altitudine è pazzesco come ci siano ancora così tanti alberi distrutti a seguito di quella specie di tornado comunque di tempesta che ha fatto qualche anno fa e che ha creato tutti questi danni intanto siamo arrivati siamo arrivati a zero gradi siamo passati anche dalla provincia di Vicenza alla provincia di Trento quindi siamo in Trentino il casco si sta appannando in modo importante la strada è scivolosissima ma lo si vede è lucida sul lato ombreggiato dove non batte più il sole c'è un strato di brina importante e qua comincia a fare veramente freddo direi che meno uno eccolo qua siamo arrivati a meno uno non so se vi possiamo farlo vedere no cerco di andare pianino perché veramente meno uno pericoloso zero meno uno eccolo là sapete che non so neanche se ci sono delle gomme termiche specifiche per moto ci saranno delle gomme particolarmente adatte al periodo invernale o alla pioggia credo comunque mi sento di dire che fa veramente freddo per fortuna che ho l'abbigliamento termico della Decathlon neanche se ripeto pantalone no problem mi sembra bene la maglia soprattutto sulle braccia sento sento freddino adesso i guanti vanno abbastanza bene anche se appunto purtroppo le mani si girano lo stesso ecco quindi le mani sono sempre un problema i guanti non bastano forse dovrei provare a pensare se continuerò a fare tutto il periodo invernale potrei comprare i guanti riscaldati da aggiungere alle manopole riscaldate ma non so quanto realmente facciano magari cercherò di leggere qualche recensione intanto stiamo quasi arrivati in alto vediamo in alto com'è sarà meno due forse o forse anche più caldo in realtà perché magari ci fate un po' di pulsone più che altro spero di trovare veramente aperto il bar il bar sul passo perché sennò mi mi giro vabbè che posso anche continuare non c'è problema in realtà qui tra l'altro sarebbe bellissimo fare il video con i droni ma direi che è molto meglio farlo in estate uh tutto ghiacciato ben ghiacciato ben ghiacciato infatti fa più caldo sali dal vero gradi come voleva si dimostrare forse dice anche della neve o hanno provato a sparare della neve stupendo comunque questo giro si sta dimostrando favoloso secondo me hanno provato a sparare della neve ma mi sa che il bar è chiuso il bar è chiuso signori ci congeliamo le uova perché dobbiamo proseguire nella speranza di trovare più avanti quel bar lì che era aperto vaffanbrodo vabbè ormai ce ne frega il baffo scendiamo e andiamo a quello successivo via tiriamo come si confà nel perfetto stile di Benzas del ciccio Benzas britti come una lama spero che il video vi sia piaciuto spero che vi siate divertiti con me a percorrere il passo Vezzena e vi invito a iscrivervi al canale attivare la campanellina e ovviamente lasciarmi anche un commento e mettere un like se il video invece non vi è piaciuto beh scrivetemi nei commenti perché non vi è piaciuto ciao a